Mentre che lasciamo che questa piccola piscinetta casalinga si riempia d'acqua perché dopo ospiterà un po' di bambini scopriamo, eccolo lì, il telo da bagno della Cuddle Dry Ringraziamo il sito devoaverlo.it per avercelo fatto scoprire che cos'ha questo telo da bagno di particolare al di là delle fibre di bambù, il cotone biologico antibatterico di cui è fatto quindi è molto morbido ed è sicuramente eccezionale per coccolare i bambini ha una genialata che lo rende unico di fatto risolve un problema quando noi tiriamo fuori i bambini dalla vasca da bagno tipicamente abbiamo l'asciugamano nella mano sinistra o nella mano destra e cerchiamo di barcamenarci per tirare fuori il piccolo senza far sì che prenda freddo e senza bagnarci questo telo risolve il problema fin dall'inizio perché permette di allacciarselo intorno al collo e in questo modo, come si vede lì nella figura e in questo modo avremo praticamente il telo tutto davanti a noi e quando tireremo fuori il bambino dalla vasca da bagno lo potremo avvolgere immediatamente senza far prendere freddo a lui e senza bagnarci noi adesso vediamo, con l'aiuto di tutti i bambini che arriveranno qui oggi pomeriggio se riusciamo a farvelo vedere in azione vedi, mentre papà Albi si prepara con Alessandro a fare un bagnetto noi andiamo dalla mamma che si mette il telo della cuddle dry guarda come sto in piedi, ti piace eccola eccolo che, sperimentiamo il telo attacchiamolo più largo prendiamolo più largo siamo alti così vedi, tac e poi lo prendi e qua c'è la cosa per la testina eh sì, è chiaro adesso aspettiamo che Alessandro dal bagnetto col papà eh e poi lo asciughiamo ci siamo, ci siamo, ci siamo testiamolo questo telo da bagno amore guarda vedi il tuo bagnetto tac addosso così la mamma non si bagna è fantastico è rosa, va bene uguale anche se lui si chiama Alessandro è fantastico guardalo comodissimo guardalo, hai anche beccato la testa al volo è una coincidenza sai, sette mesi di asciugamani hai preso poi la grande è geniale questo telo da bagno è geniale perché la mamma rimane asciutta innanzitutto di solito mi lavo completamente ed è comodissimo bello lui ed è anche molto morbido ciao Ale ciao saluto a tutti ciao Ale ciao ciao